Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita, spero di farvi cosa gradita, portarvi nuovamente Scrappa Mechanic. Siamo al terzo episodio, vi ho fatto vedere un paio di giocate così, insomma io non ho mai preteso di insegnare nulla a nessuno, perché ci sono youtuber e persone, giocatori molto più amanti di me in questo gioco, però ho detto ho fatto 22 ore finora su questa partita e volevo provare a farvi vedere qualcos'altro, farvi vedere qualcosina che magari ho scoperto. Ora, che cosa succede? Sto costruendo un po' così, un po' molto raffazzonato, una macchina. Questa macchina ha una particolarità che adesso ve la faccio vedere, è una cosa che sto, diciamo, testando pian piano, che è questa funzione qui, che praticamente premendo il tasto 1 vado ad allargare le ruote dietro per dargli più stabilità, anche se quest'auto ha un piccolissimo problema, perché è corta e quindi risulta comunque un po' immanovrabile. Ho piazzato gli ammortizzatori, che è possibile poi andare a fare, andare leggermente ad aggiustare, vado ad alzarmi un filino dietro, perché uno addirittura era disattivato, ora ha un aspetto un po' così. Insomma, abbiamo finito anche il carburante, che andiamo a rimettere immediatamente. Quello che volevo farvi vedere in questo gameplay sono un paio di cose che magari, chi di voi non le sapesse, potrebbero risultarvi molto utili e per me lo sono state. Insomma, soprattutto scoprirle. Scoprirle perché ho seguito altri youtuber riguardo questo gioco, li trovo ogni luce davanti a me, sono probabilmente ad un livello che io non ne aggiungerò mai. Però vabbè. Quello che volevo farvi vedere è questo. La prima cosa, la più importante probabilmente, ho fatto questo sistema di irrigazione dove in pratica la pompa dell'acqua è legata a un sensore, come vedete sopra, e il sensore ogni volta che trova qualcosa va ad attivare e di conseguenza la pompa. In sintesi poi potremo anche andare a configurare il sensore in base a cosa, farlo attivare, non semplicemente magari un blocco, ma mettergli magari un colore, un blocco di un colore. In pratica cosa succede? Premo, ogni volta che trova spruzza acqua. Ma in realtà il problema è come bagno gli altri di qua? Beh, adesso lo faccio tornare indietro e vi faccio vedere una cosa veramente eccezionale che ho scoperto da pochissimo. Allora, lo faccio tornare indietro e cosa succede? Se io prendo un secchio, vedete qua all'interno di questa ho riempito con la pompa che ho messo vicino al lago, che mi raccoglie 100 d'acqua alla volta, posso andare con il secchio e vedete che posso riempirlo. Quindi posso riempirlo quante volte ce ne voglio, almeno finché c'è acqua e c'è speranza, e andarmi a bagnare l'orto volta per volta, quindi non ha senso fare tutte quelle, le tubature che arrivano qui con l'acqua. Si va ogni tanto, si riempie 100 d'acqua, bastano. E come potete notare il problema della farm l'ho abbastanza risolto perché ho tre panini. L'obiettivo ora sarebbe quello di andare e craftarmi le ruote grosse, ho potenziato anche al massimo il craft bot, diminuisce i tempi e dà tanto spazio, dove mettere la coda di crafting. La cosa che vorrei fare appunto è questa qui, questa ruota grande da camion, mi serve del legname che ho già iniziato a craftare e del metallo che ho. Mi serviranno anche 8 di, diciamo, cera d'api, 8x4, quindi un po' me ne servono, almeno 32, mi serviranno 200 di legno e 40 di metallo che ho. Sto facendo abbastanza agilmente. E mostrata la prima cosa, adesso io interromperei un attimo perché, anzi, lo abbiamo in diretta perché c'è l'attacco dei cloni. Insomma, poi vi faccio vedere i panini come li sto craftando. Adesso ho piantato soprattutto carote che nella mia scorta è la verdura che al momento manca di più, manca maggiormente perché vi farò vedere anche perché io purtroppo ho la memoria di un canarino. Non ricordo se ve l'ho mostrato nel gameplay precedente, però ho intenzione di questo è pericolosissimo perché è quello che fa più male di tutti ed è anche più devastante a riguardo di distruggere i campi. Dovremmo averlo superato il ride, io credo. Poi per fare una cosa abbastanza veloce prendo questo, lo butto nel raffinatore così almeno mi faccio altro metallo poi da raffinare a sua volta. E no, volevo farvi vedere, ho fatto questa cassa qui. Adesso sto sempre tenendo un po' d'occhio perché potrei, dato che il volume di gioco è anche abbastanza basso, e potrei perdermi qualche robot che magari nel frattempo è arrivato. Ho fame. Adesso vabbè, io aspetto un attimo. Ho fatto questo campo qui, questo baule qui, dove all'interno ci sono tutti i tipi di verdure, carote, rape, pomodori e patate. Le patate serviranno domani per sparare con un cannone, ma quello quello che mi importa maggiormente, vedete, potete fare quattro cose. O questo, i due che richiedono la carne, oppure questo, il veggie burger che faccio. Vedete, richiede veramente una stupidata. Due pomodori, un pomodoro, scusate, una patata, un pomodoro, una patata, una rapa e due carote. Cioè pensate quanti posso farne qui. E ho praticamente risolto il mio problema. Ora ho piantato delle carote. Una volta che avrò le carote potrò anche distruggere il campo, cioè non coltevarci nulla e vivere abbastanza tranquillamente senza ride. Perché comunque, guardate, io adesso prendo un panino, lo mangio. Guardate quanto cura è. E potrei pensare di costruire, appunto, come dicevo, delle ruote da camion per farmi un mini camper, per piazzarci un letto sopra, insomma. Però c'è ancora una mancanza alla mia partita. Il fatto di non aver trovato alcun pezzo di cotone. Quindi quello lo andrò a fare. Adesso vorrei sistemare sto tizio. Così che è un farming continuo, un grinding continuo al gioco, ma lo fa divertendo perché comunque i materiali che noi ci studiamo li convertiamo poi in mezzi. Ho iniziato un pochino a prendere ispirazione da altre macchine, ma in realtà poi ho fatto poi di testa mia costruendo questi tubi qui. Poi tra l'altro è tutto storto, ma vabbè. Questi tubi qui per far dare un aspetto un po' più da auto, ma in realtà anche l'ammortizzatore non mi ha cambiato la vita. C'è chi addirittura l'ha messo anche in orizzontale, quindi non lo so. Adesso attendiamo le 4 di mattina e vi faccio vedere una cosa. Ulla peppa! Me lo stavo perdendo sto qui. Vabbè, poco male, nel senso che ormai non so più dove metterle tutti i semi, quindi va bene così. E lei? Qui? Si è incartato? Poi c'è sicuramente ci sono youtuber incredibili che hanno fatto veramente delle cose pazzesche. Io continuo a pensare che siano in creativa o comunque si siano dati oggetti, perché veramente per fare oggetti o si crea un ottimo sistema di raccolta, quindi una sorta di auto che funziona bene nel segare e raffinare gli alberi o se no è veramente difficile. Ora, sta arrivando la luce, vi faccio vedere due cose giusto così per informazione, per vostra, insomma, per capire un attimo come funzionano le meccaniche di gioco. Allora, adesso ci mettiamo subito in marcia, abbiamo mangiato, ovviamente più cuorete più scende la fame e la sete, quindi vedete si sta già scendendo perché... Vabbè, lascio la zona a mio rischio e pericolo e ci mettiamo in marcia con questo osceno mezzo di trasporto. Va a cattivare le vuote larghe! Sì, ma sbanda comunque, quindi... Vabbè, lo do anche come ispirazione quest'auto al mio socio Ghost che lui crafta e anche perché poi stasera andremo live sul canale di Mirko. E poi, vabbè, sto comunque cominciando anche io adesso qualche live serale, quindi spero che gradiate la cosa. Allora, vi spiego rapidamente due cose che ho imparato. Allora, in pratica, quando voi raccogliete dieci tipi di una verdura, la potete portare qui, fate tipo una pompa, un connettore, da un vostro contenitore, lo buttate qua dentro e vedete che vi riempie quelle barre lì. Una volta riempita, vi dà un blocco enorme di quella verdura, una cassa, in pratica, ve la impacchetta. Occupano molto spazio, quindi serve un camion, un rimorchio, insomma, un qualcosa per trasportarlo in modo agevole. Più avanti, seguendo la strada, troverete un altro di quei, di quei cosi lì, che impacchettano altri tipi di verdure che al momento non abbiamo. Lì sono le verdure comuni che già stiamo coltivando. Là in cima, dove vedete, è sempre vicino, bene o male, quella grotta, in cima a quella grotta c'è un nano che ci consentirà di vendere la roba, ma non a caso sto andando qui, perché più avanti, come vi ho detto, ce n'è un altro. Qua, e ne trovate più di una, ci sono questi piomi di foresta bruciata. E in questo caso risolvete l'annoso problema del dove trovo il legno infuocato, il legno che ci serve per fare il metallo di tirature. Ecco, avete risolto il problema. Io poi chiedo a voi, chi magari è più esperto, se avete idea, se questi alberi si rigenerino, perché sennò potrebbe essere un problema andando avanti. vedete, io ho fatto del legno rarissimo, dovrei trovare anche il bioma con quello là in fondo, probabilmente, con le foreste autunnali, perché lì c'è il cotone, il cotone mi servirà per fare un sedile un po' più bello e soprattutto il letto. Qua scendiamo, si va e all'interno, in questa zona qui c'è una, vedete, una pompa, un aspiratore, che una volta che arriviamo qua dentro e gli mettiamo sotto, diciamo, quel camion che abbiamo riempito con tutti i blocchi che vedete lì, impacchettati, cioè nell'industria che abbiamo visto prima, dieci verdure, dieci frutti, li mettiamo qui, vengono assorbiti. Una volta assorbiti vanno nel nostro inventario di questo venditore, perché questo venditore, vedete, ci va a vendere un sacco di roba. Ci vende banalmente solo la, diciamo, il fertilizzante o così, però non ci vale la pena dieci di rap per questo. Possiamo, e li accumulate, se fate un orticello con il mio, li tirate su in pochi giorni. Dovete anche recuperare dei nani ingabbiati, li recuperate nelle rovine, li portate qui, li scaricate qui e vedete che vi danno, allora, prima di tutto, la cosa da prendere per prima sono i semi nuovi, i semi di banana, i semi di arancia, vedete che chiedono verdure che possiamo fare, e le bacche blu. Dopodiché potete, calcolate che 30 pomodori, 30 carote e 30 rape per fare questi semi qui. Poi banalmente, vabbè, la trivella e la sega, ma qua abbiamo il cannone, ci chiede 2 di banane, quindi 20 banane e 10 bacche. C'è il fucile, e qua ci chiedono sempre arance, bacche e un nano, e poi abbiamo lo shotgun, sempre i nani, sempre i broccoli, broccoli che non avevamo ancora visto, e lo sputgattler, e la gatling in pratica sempre, ananas e così via. Quindi capite che qua, per fare questo, dobbiamo, almeno i primi cannoni, dobbiamo prima sbloccarci i semi, coltivarli e andare avanti. Non so dove si trovano i broccoli però, o c'è, ipotizzo, un altro nano che ci vende altri semi, o lui che viene a sbloccarsi dopo, non lo so. Quindi adesso torniamo all'auto e vi ho fatto vedere in pratica quello che volevo farvi vedere, cioè il recupero, diciamo, del legno infocato, e qual è, diciamo, lo scopo subito successivo di gioco, dopo aver iniziato a fare una farm, e un'auto, quantomeno che abbia un senso, nel senso che l'auto che ho adesso, per quanto non sia ancora manovrabile, ha un suo perché, perché comunque va abbastanza veloce e mi permette di saltare delle camminate inutili. Allora, questo sembra essere una foresta autunnale, il colore mi sembra abbastanza autunnale, quindi in teoria, ah qua c'è un altro ingresso, sempre per due per entrare praticamente, forse col camion, quindi qua sotto potremmo trovare del cotone, io immagino, perché mi dicevano foresta autunnale, foresta autunnale è questa, se riuscissi a recuperare anche solo qualche cotone avrei dato un senso a questo gameplay. Poi lì c'è una fabbrica, e dovrebbe essere una fabbrica tossica, perché in alcune fabbriche si trovano dei giacimenti di acido, forse non è questo il caso, è un acido viola che possiamo accogliere col secchio, no? In questo caso è prosciugata, ed è un altro materiale da crafting molto utile in futuro, quindi così come lo saranno anche le patate. Allora, questo non è propriamente un bioma autunnale, quindi niente cotone per noi. Però dovremmo dare un'occhiata in giro, però a me sembra autunnale qua, quindi... non so, però il cotone si distingue bene, quindi non... siamo solo un po' sfortunati. Lì c'è la foresta bruciata, appunto, sempre grande dubbio se la foresta si rigeneri o meno, però devo dire che comunque questa macchina sta andando anche abbastanza bene, quindi... arriverà il giorno in cui mi staccherò dalla mia base e mi metterò in viaggio, on the road. La mappa sembra essere anche piuttosto grande, quindi... Uppupupupupu, non fare attenzione a non finire giù. C'è anche al di là del lago... Uppupupu... Ammortizzatori ammortizzano un pochino, ma senza esagerare. Allora, qua... voglio andare qua un secondo, prima di tornare a casa, voglio vedere se qui... Uh, una cassa... Eh, lì c'è evidentemente qualcosa, però... Allora, intanto... Gasoline... Eh, questa è autunnale, cioè non prendiamoci in giro. È autunnale. Però... non c'è niente da fare. Non potremmo trovare anche tanti robot qua, quindi... No, ma no, no, è tutto troppo verde per essere autunnale. Lì c'è un'altra rovina con altri robot che mi guardano. Eh, sto ghiniando, quindi io me ne vado. Perché non è questo lo scopo. Poi il mio senso dell'orientamento è veramente scandaloso perché ho già perso la macchina. Dove l'ho messa la macchina? Eccola là. Ah, beh, ce l'ho dentro anche questo. Che sono semi di carota. Vabbè, li ho già. Ho già, non mi servono. Allora. Dai, voglio fare lo spaccone all'argo delle ruote. Ok, pistoni che per essere fatti serve comunque quel metallo avanzato, quindi no, è troppo trabannante. Perché alla fine le sospensioni legate a questa cosa così lunga fanno un po' un effetto tipo leva, quindi no buono. Allora, qui c'è l'industria, abbiamo visto. L'industria è la fabbrica dove mettiamo la frutta o la verdura e ce la butta come blocco. Lì c'è un'altra rovina che possiamo andare ad esplorare. Come sempre per scavare, trovare i forzieri. Ho scoperto che ci sono anche delle costruzioni molto avanzate, dove ci sono anche dei mini boss, quindi ha senso farlo da solo. Ha senso farlo anche con amici, insomma, quindi... Vediamo la macchina veloce di qua. Già che abbiamo trovato carburante, completiamo il giro, facciamolo bene. Andiamo a vedere se troviamo una foresta. Sì, dovrebbe essere quel magazzino là in fondo, dove si trovano addirittura delle casse dorate, che ci danno dei materiali molto interessanti, o degli oggetti comunque molto rari. Boss che comunque si affrontano minimo, minimo, con lo spara patate, quindi... Allora, intanto siamo arrivati qua. Qua, però non mi fido di andare avanti perché... Perché non credo ci sia il cotone, quindi adesso il cotone... Ho anche molta, molta paura di perdermi, e quindi soprattutto non mancano dieci minuti al... Al momento dell'attacco. Vediamo intanto se è cresciuto, così vi faccio vedere magari anche il crafting del panino, se è cresciuto l'orto, con tutte le carote che avevo piantato. Si inizia un pochino a capire dove andare, alla fine non è... Allora, non so quanto sia grande il mondo, credo sia parecchio grande, però non è neanche così difficile, perché c'è comunque la strada. E finché si segue la strada, si torna a casa tranquillamente. Allora. Tac, tac, tac. Ok, tornato a casa, vediamo se è cresciuto qualcosa, abbiamo bagnato bene l'orto, quindi in teoria dovrebbe essere cresciuto, infatti è quello lì. Intanto raccolgo carote come se non ci fossero un domani. Mi hanno, vabbè, beccato la farma, ma quello lo sapevo. Io direi che a questo punto io butto le carote, inizierò a buttare via un po' di roba, perché è veramente... Allora, intanto io prendo una decina di pomodori. Carote ne ho prese sette, ne prendo otto. Patate ne prendo otto. Carote me ne servivano almeno il doppio, però. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare. Adesso vi dico, solo avendo raccolto questa roba qui, inventario pieno, dei semi, non so già più cosa farmene, perché comunque semi ne ho. Carote ne ho raccolte tre, dieci, ok, le metto via. I semi, venti, 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 prenderò otto i semi. Le rape, le rape ne prendo una decina. Ok, adesso vi faccio vedere quanti ne possiamo fare. Fate il calcolo. Allora, abbiamo cinque, sicuramente cinque panini. Ma in realtà potremmo farne molti di più. Perché calcolate che di là abbiamo anche cinquanta patate. Quindi almeno un... Eh, dio, un po' ne possiamo fare. Quindi abbiamo praticamente risolto il problema del cibo per quanto? Per tre giorni? Cinque giorni almeno? Sta passando un giorno e non sono neanche a metà. L'ho proprio fatta fuori la fame e la sete correndo prima. Ma per il resto no. Poi posso prendere questo robot, caricarmelo in macchina e vivere così per un po'. Ho fatto uno, faccio un altro e i panini sono impilabili. Quindi ne ho messi da parte un bel po'. Quindi diciamo che ho trovato un pochino di autonomia personale per quanto riguarda il... Il mangiare. Eh, potrei fare il dress bot. Però mi sarebbe un materiale avanzatissimo, metallico. Che ci permette di cambiare e sbloccare i vestiti. Ma diciamo che tra tutte le cose che si possono fare, quella è sicuramente la meno intrigante. E secondo me è anche la più inutile. Altro paninozzo. Eh, arrivare il barbaguette, sarebbe anche il latte, diventa un po' più complicato. Intanto continuiamo a fare sta roba, che almeno un po' di cibo c'è. Poi la roba che non mi ci stavo in inventare, perché veramente ce ne sta tanta. Eh, non ce ne sta tanta, voglio dire. Ho messo tipo qua dei parabrezze che ho fatto. Mi fa un po' officino. Ho messo qua la segra circolare. Un pulsante, quello che dobbiamo mettere nel botto dei vestiti, che ci sblocca un vestito a caso. Quindi, insomma, abbiamo lavorato un pochino. 22 ore, ormai quasi 23 di gioco. Non ho fatto moltissimo. Ho fatto solo tre video. Pare che comunque vi siano piaciuti abbastanza. E niente. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco, di questo video. Insomma, se vi è piaciuto il mio modo molto ignorante di portarlo, di spiegarvi un pochino le cose. Da me non vedrete probabilmente mai grosse costruzioni o tutorial su come costruire la macchina più efficiente del mondo. Io sono così. Spiego le cose che imparo giocando e poi vi lascio giocare voi, insomma. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi. E ciao, ciao.